Ciao a tutti e ben tornati nel mio canale! Nel video di oggi vorrei parlare della colazione italiana, nello specifico dei cibi che si mangiano a colazione. Prima di iniziare vorrei ringraziare la promozione di Italki che puoi guardare in l'info box. Se compriete un'lessione italiana, riceverete una per free sul sito di Italki, dove puoi imparare la lingua. Con un parlato nativo puoi customizzare la tua lezione e puoi prendere la lezione dove sei e quando vuoi. Allora, iniziamo! Tutti sappiamo che la colazione è il pasto più importante della giornata. Perciò è importante mangiare qualcosa insieme al caffè, al latte, al tè o al succo di frutta. La colazione italiana è tipicamente leggera e dolce, infatti non troverete cibi salati a tavola. Ora vi parlerò di alcuni cibi tipici che gli italiani mangiano a colazione, così potrete trarne ispirazione per le vostre colazioni. Lo yogurt è un alimento spesso presente a tavola, che si mangia da solo oppure con i cereali o i pezzetti di frutta. Il cornetto è il cibo da colazione per eccellenza. Potete trovarli sia al supermercato, come questo, sia al bar. Personalmente credo che quelli del bar siano imbattibili. Ovviamente non possono mancare i biscotti, da inzuppare nel latte. Anche le fette biscottate sono un must della colazione italiana. Potete spalmarci il burro e la marmellata insieme, oppure solo la marmellata. Infine, le gallette di riso sono un'alternativa più leggera alle fette biscottate. Ci vediamo nel prossimo video! Ciao ciao! 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 I am also on Instagram and Twitter, so follow me over there too. I will have all the links. A presto A presto